Un arresto e il sequestro di sostanze dopanti per 2 milioni di euro, maxi operazione dei NAS e della gendarmeria di San Marino su un vasto traffico di anabolizzanti. A Riccione i giovani automobilisti si avvisano a vicenda via social dei posti di controllo, ma la polizia locale cambia le postazioni e ritira 13 patenti. In ricordo di Massimo Pironi, la sala conferenze della sede della provincia di Rimini, intitolata all'ex sindaco di Riccione, deceduto nell'incidente con i ragazzi del Centro 21. Calcio, il Rimini reduce da un periodo poco fortunato, impegnato domani nello scontro tra matricole sul campo della Re Canatese. Basket RBR torna al Flaminio alla ricerca del successo scacciacrisi con Mantova. Buonasera e bentrovati a questo appuntamento con l'informazione di Icaro TV e di Icaro Play. Parliamo di una maxi operazione dei carabinieri del NAS insieme alla gendarmeria su un traffico illecito di anabolizzanti. Il centro operativo è stato individuato tra San Marino e Rimini. L'indagine della Procura riminese ha portato al sequestro di sostanze dopanti per 2 milioni di euro. Importazione, produzione, stoccaggio e distribuzione in tutta Italia di sostanze dopanti e stupefacenti pericolose per la salute pubblica, con ramificazioni su tutto il territorio nazionale attraverso centri di distribuzione locale che operavano in qualità di affiliati. Le indagini dei carabinieri del NAS, coordinate dal sostituto procuratore riminese Davide Ercolani, hanno interrotto un giro di anabolizzanti non solo che coinvolgeva San Marino, la provincia di Rimini, ma anche Peser Urbino, Asti, Vicenza, Monza Brianza, Genova e Roma. Grazie alla stretta collaborazione con la gendarmeria, è stato possibile arrestare per l'ipotesi di attentata alla salute pubblica mediante la fabbricazione, corruzione, adulterazione, messi in circolazione di sostanze alimentari o medicinali, un san marinese di 36 anni, nella cui disponibilità è stato rinvenuto un magazzino in cui erano stoccati ingenti quantitativi di nandrolone, steroidi anabolizzanti, testosterone e ormone della crescita, per un valore al dettaglio superiore ai 2 milioni di euro. Nella stessa circostanza sono stati sequestrati 300 mila euro in contanti, ritenuti il profitto dell'illecita attività di vendita. 11 le persone indagate, tra le quali figura un pesarese di 56 anni, titolare di una palestra cattolica. Le perquisizioni dei NAS a casa dell'uomo nella sua attività hanno però dato esito negativo, ma per gli inquirenti l'imprenditore era uno dei clienti del san marinese. Le analisi chimico-tossicologiche hanno evidenziato un ulteriore elemento di pericolosità riguardo alle sostanze poste in vendita, rappresentato sia dalla ricorrente realizzazione di miscelature tra più prodotti, sia, sottolineano gli investigatori, dalla presenza di sostanze come la sibutramina, bandite dal commercio poiché essa è nocive e responsabili. In altre circostanze, di episodi di decessi, nonché di intossicazioni epatiche renali. La scorsa notte la polizia locale di Riccione ha fermato 500 veicoli, sottoponendo altrettanti conducenti alla prova etilometrica, in specifici controlli contro la guida in stato di ebrezza. 13 le patenti ritirate, grazie a una precisa strategia volta a disinnescare il passaparola, anche via social, tra i più giovani al volante. Sono stati organizzati posti di blocco in successione e in punti sempre diversi, con spostamento continuo degli equipaggi da Piazzale Curiel a Viale Torino, dalla Statale Adriatica a Viale Abruzzi, Viale Trebaci e Sardegna. In questo modo sfuggire ai controlli è risultato particolarmente complicato per gli automobilisti. L'attività sanzionatoria ha trovato i picchi più elevati nella zona dei locali da ballo. È stata intitolata ufficialmente a Massimo Pironi la sala conferenze della sede della provincia di Rimini in corso d'Augusto a Rimini. L'ex assessore provinciale e sindaco di Riccione è deceduto nell'incidente del 7 ottobre scorso, costato la vita a sette persone sull'autostrada A4. Quel giorno Pironi stava svolgendo la sua attività di volontario per il Centro 21 e Cuore 21 di Riccione. E' tornato dopo tanti successi anche come amministratore e come politico, è tornato al volontariato, è tornato nel migliore dei modi e nella maniera più eclatante con un'esperienza straordinaria come quella del Centro 21 di Riccione. Poi il dramma e in quel dramma ci siamo sentiti, ci siamo stretti un po' tutti intorno a lui, alla sua comunità, alla sua famiglia e con questo piccolo segno di queste intitolazioni della sala conferenze della provincia lo vogliamo onorare e ricordare perennemente. E' un'eredità che abbiamo sempre condiviso dal primo momento, da quando insieme a Massimo abbiamo deciso di fondare la cooperativa Cuore 21, perché crediamo fermamente nel valore educativo che stiamo portando avanti con i ragazzi con disabilità intellettiva e quindi andiamo avanti con le forze che abbiamo oggi, quindi abbiamo anche un attimo ridimensionato un pochettino le cose, ma non quelle che riguardano direttamente i ragazzi, anzi quelle sono proprio lievitate diciamo. Il maltempo è tornato a farsi sentire sulla Romagna. La protezione civile ha emanato un'allerta valida per la giornata di domani che sulla provincia di Rimini è di colore giallo il livello più basso per criticità idraulica e idrogeologica e per criticità costiera. Previste precipitazioni diffuse, localmente intense e a carattere di rovescio. Le condizioni del mare sotto costa potranno generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale, con un temporaneo aumento del moto ondoso fino a molto mosso, con venti forti. Il Black Friday è un appuntamento atteso da molti consumatori per fare acquisti a prezzi convenienti nei negozi e online. Un'opportunità che si amplia dalla singola giornata, tanto che molte offerte sono già iniziate, ma che va affrontata con la giusta cautela. Feder Consumatori propone un decalogo per acquisti sicuri. Un'opportunità di cui approfitta il 41% dei cittadini, secondo l'osservatorio Feder Consumatori, con una spesa media famiglia di 163 euro. Se la data è il 25 novembre, ormai il Black Friday dura una settimana, con l'appendice a lunedì del Cyber Monday per i prodotti elettronici. Ma prima di gettarsi a capofitto nelle offerte con la carta di credito, Feder Consumatori ricorda alcune avvertenze. Verificare che siano correttamente riportati i dati della società commerciale, le condizioni di recesso e le garanzie. Diffidare dai siti che riportano i loghi delle carte di credito, ma accettano solo bonifici. E diffidare dalle recensioni troppo entusiaste sotto il prodotto. Meglio cercare su forum esterni. Il sigillo netcom è uno dei più affidabili. Attenzione ulteriore se le offerte viaggiano via social o mail e attenzione ai messaggi in cui si è taggati con l'invito a cliccare link esterni col rischio di acquisti inconsapevoli. Molta cautela anche nei meccanismi invita un amico che potrebbero mirare a carpire dati altrui. E ricordare comunque che ogni volta che si danno i propri dati è sempre un rischio per la privacy. Controllare sempre, infine, la classe energetica sugli elettrodomestici per cui è obbligatoria. Sconti troppo invitanti potrebbero costare caro in bolletta. E apriamo la pagina sportiva con il calcio. Il Rimini dopo un avvio brillante. Le ultime partite però che hanno visto un periodo più opaco cerca il rilancio. Domani nello scontro sul campo dell'Arcanatese, uno scontro tra matricole, si gioca alle 17.30 con diretta sui 92 di Radio Icaro. Ascoltiamo il commento della vigilia del tecnico bianco-rosso Marco Gaburro. Gli stati di forma sono ciclici e sta a noi invertire questa loro tendenza confrontata con la nostra. Noi abbiamo bisogno assoluto di fare risultato perché si è una squadra che ha vissuto secondo me soprattutto due partite abbastanza in difficoltà sul piano generale. Non ha raccolto quello che doveva raccogliere e in questo momento qua dobbiamo invertire la rotta con una prestazione non soltanto corale ma anche con quella cattiveria in più che secondo me serve proprio nei momenti in cui capisci che le situazioni non ti stanno girando a favore. Devi aggredire la situazione e lo devi fare subito. La Arcanatese è una squadra che ha mantenuto praticamente un impianto di gioco con un allenatore e praticamente tutti gli over se non un paio della passata stagione. Ha messo dentro 4-5 under comunque importanti. ha cercato di dare continuità. È una squadra che ha un obiettivo chiaro che è quello della salvezza, consapevole. È una squadra che è partita male perché comunque nelle prime sei partite non è riuscita a vincere però nell'ultimo periodo ha trovato delle vittorie prese con spirito, prese con i denti, prese con prestazioni anche molto dagliarde e frutto probabilmente di un equilibrio interno di uno spogliatoio che in questo momento qua gli sta pagando. È una squadra che gioca un 4-4-2, un 4-4-1-1 molto compatto, che concede pochi spazi tra le linee e soprattutto concede pochi spazi sul lato palla perché ha una fisicità importante, una pressione importante. Il campo non è un campo bellissimo dal punto di vista del fondo, una discreta ampiezza e quindi sarà una partita delicata perché devi cercare di giocargli dentro e non sarà facile, è un po' tipo quello che è successo con la fermana, un tipo di partita di quel tipo lì, forse con un po' più di ampiezza e un po' meno di possibilità di giocare dentro perché loro dentro sono veramente bravi a far densità. Indisponibile sicuramente Mencagli, sicuramente Rosso, Averi e squalificato Vano, gli altri ci sono. E anche nel basket RBR cerca di rilanciarsi dopo un avvio difficile che ha visto un solo successo a fronte di sei sconfitte. L'occasione sarà domani, l'impegno casalingo al Flaminio con lo staff Manto a compagine di centro classifica. Si gioca alle 18, la partita sarà poi trasmessa domani sera alle 20.35 su Icaro TV. Ascoltiamo la vigilia dell'assistente allenatore Larry Middleton e dell'ala Stefano Masciadri. Questa settimana siamo ripresi a lavorare su queste cose importanti che dobbiamo lavorare, diciamo, sulla concentrazione e soprattutto sull'esecuzione, l'esecuzione del gioco e soprattutto riprendere la squadra per risettarla, insomma, perché noi ci manchiamo poco per esserci davvero. Abbiamo preparato le particolari, diciamo, sulle pallavagate, sulle taglio fuori, sulle piccole particolari. Sono quelli che contano contro le squadre con maggior esperienza di Lega, perché si tratta solo di questo. Noi siamo una neopermossi con persone, molto ragazzi che non hanno esperienza in questa categoria e dobbiamo soprattutto stare più attenti su tutti i 40 minuti. Non possiamo giocare 20 o 30 minuti, dobbiamo giocare tutti i 40, con la giusta intensità, con la concentrazione. Dobbiamo iniziare a smuovere la classifica e dobbiamo comunque dare valore al lavoro che stiamo facendo comunque da agosto, quindi non dobbiamo portarci dietro le paure, portarci dietro gli errori delle partite passate e iniziare a pensare partita per partita, perché solo così, secondo me, possiamo uscire da questo, tra virgolette, momento di difficoltà. In A2 non puoi permetterti di battezzare giocatori, non puoi permetterti di mancare un tagliafuori e ogni pallavagante può costare la partita, quindi sicuramente il ritmo si è alzato, adesso lo sappiamo e sappiamo come affrontare da qui alla fine del campionato. Il nostro pubblico non si è mai tirato indietro, quindi su questo sono convinto che continueranno a fare la loro parte, adesso sta a noi. Questa sera alle 20.40 su Icaro TV torna l'appuntamento con Ticva, gli intrecci della speranza, le storie di questa sera. Dalla Sicilia un laboratorio di Sartoria che diventa seconda opportunità per tante persone. Il viaggio del Vescovo di Rimini e di una delegazione riminese in Zimbabwe nella missione di Marilena Pesaresi in Trentino per una borsa della spesa con prodotti locali in cambio di sostegno ai progetti per persone con disabilità e ad Arezzo per un ricordo d'estate, una settimana di vacanza per un gruppo di ragazzi che hanno affrontato temi di attualità e bioetica. Appuntamento quindi questa sera con Ticva. Noi siamo in conclusione, vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it, la pagina Facebook e l'app di News Rimini. Grazie a tutti voi per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona domenica. Grazie a tutti voi per averci seguito.